Ora cambiamo argomento e parliamo della termodinamica delle reazioni chimiche. La termodinamica chimica si occupa dei trasferimenti di energia che si verificano durante le reazioni chimiche e questo le mette in relazione con l'ambiente in cui si trovano. Dobbiamo distinguere tre tipologie di casi. Abbiamo il caso del sistema aperto, dove il sistema scambia continuamente il calore con l'ambiente esterno. Immaginiamo una tazza di cappuccino, la tazza di cappuccino caldo perde del vapore dall'esterno perché sta evaporando, quindi perde della materia, ma nello stesso tempo sta anche scambiando calore con l'esterno. Questo è un sistema aperto perché ci sono scambi di materia con l'ambiente, cioè il vapore che evapora dalla tazza e magari del vapore o della zucchero che sta nell'ambiente che cade nel cappuccino. E poi abbiamo il calore che invece emette la tazza e il cappuccino e si disperde nell'ambiente. Questo è un sistema aperto. Poi abbiamo il caso del sistema chiuso, ovvero immaginiamo un cappuccino dentro una tazza con un coperchio che impedisca al vapore di uscire fuori, però la tazza di cartone permette comunque al calore di uscire fuori. Quindi qui abbiamo un sistema chiuso in cui non c'è lo scambio di materia con l'ambiente, ma c'è comunque uno scambio energetico. Il cappuccino si raffredderà anche in questo caso. E poi infine abbiamo il sistema isolato. Immaginiamo una tazza termica che ha anche un coperchio, quindi non c'è né uscita di vapore, quindi di materia, né uscita di energia, perché la tazza termica isola completamente il caffè dall'ambiente esterno e impedisce praticamente al calore di disperdersi. Questi sono i tre casi nella termodinamica che dobbiamo considerare per poter studiare poi il comportamento termodinamico e quindi del trasferimento di energia durante le reazioni chimiche. Che cos'è l'energia interna di un sistema? La materia e le particelle che la compongono sono dei serbatoi di energia che possono essere immagazzinati sotto forma di energia potenziale o energia cinetica. Per esempio il carburante di un'automobile ha energia sotto forma di legame chimico del carburante. Quando la macchina viene accesa e il carburante viene bruciato, quell'energia potenziale che prima era sotto forma di legami chimici del carburante viene sprigionata e diventa energia cinetica che fa muovere la macchina. Però vediamo cosa succede esattamente a livello atomico. Abbiamo anche qui tre modi in cui l'energia può essere immagazzinata dalle particelle che compongono la materia. Abbiamo l'energia trasrazionale, è l'energia cinetica delle particelle. Un gas, tanto è più caldo, tanto le sue particelle si muovono agitandosi nell'ambiente in cui si trovano. Ma anche allo stato solido le particelle vibrano e la loro vibrazione aumenta con la temperatura. Quindi è proprio la movimento delle particelle. Quindi una parte dell'energia del sistema può essere immagazzinata sotto forma di energia cinetica o movimento delle particelle. Poi abbiamo l'energia rotazionale. Anche il modo rotatorio delle particelle è un modo in cui queste possono accumulare energia e liberarla durante le reazioni chimiche. E poi infine abbiamo l'energia di vibrazione. La forma delle molecole può variare per vibrazione e anche qui, in base a come le molecole possono modificare la loro forma, possono accumulare diverse quantità di energia. Più la temperatura è alta, più le molecole sono agitate. La temperatura del corpo che stiamo studiando è in relazione con l'agitazione termica o cinetica delle particelle che lo compongono. L'energia potenziale è l'energia immagazzinata nei legami di una molecola, detta anche energia chimica. L'ho accennata prima con l'esempio del carburante di automobile. I legami chimici del benzene sono l'energia chimica che possono essere convertiti in energia cinetica quando viene bruciato e fa muovere la macchina. Quindi l'energia di un corpo equivale alla somma dell'energia cinetica delle particelle più l'energia potenziale dei loro legami chimici. Andiamo avanti e rivediamo questa formula, ovvero la somma dell'energia cinetica e potenziale di tutte le particelle di un sistema dato è l'energia interna del sistema stesso. L'energia interna è una funzione di stato del sistema e si calcola con questa formula. Energia equivale a energia cinetica più energia potenziale. Quindi durante una reazione chimica abbiamo una variazione di energia interna dei reagenti e dei prodotti. La differenza di energia prima e dopo una reazione chimica viene definita come ΔE ed equivale a l'energia dei prodotti meno l'energia dei reagenti, ovvero l'energia delle sostanze dopo la trasformazione meno l'energia delle sostanze prima della trasformazione. La variazione dell'energia interna di una reazione equivale allo scambio energetico tra il sistema che reagisce e l'ambiente in cui avviene. E questo schema l'abbiamo già visto nel corso di fisica, ma lo riprenderemo più avanti. Il calore e il lavoro. Questa variazione di energia del sistema può essere convertita in lavoro che il sistema subisce dall'ambiente o effettua verso l'ambiente. Lo vediamo meglio. Cos'è il lavoro? Può essere meccanico, come avviene nei pistoni di un motore a scoppio, oppure elettrico, in una reazione elettrochimica. Il calore, invece, Q, è la manifestazione del trasferimento di energia termica tra due corpi che hanno temperatura diversa. Abbiamo già visto, sempre nel corso di fisica, che se due corpi a temperatura diversa sono a contatto, o comunque sia sono a stesso ambiente, si scambieranno il calore fino a quando non avranno la stessa temperatura. E il movimento del calore è sempre da quello più caldo a quello più freddo, mai viceversa. I due corpi smetteranno di scambiarsi calore quando raggiungeranno la stessa temperatura, definita equilibrio termico. Questo argomento l'abbiamo già fatto con fisica. E qui abbiamo che ΔE equivale, come abbiamo appena visto, l'energia dei prodotti meno l'energia dei reagenti, che quindi equivale a Q calore più lavoro. E qui torna lo schema che ho appena presentato nella slide precedente. Per convenzione si definisce il calore positivo quando passa dall'ambiente al sistema, quindi Q maggiore di zero, e negativo invece viceversa, quando passa dal sistema all'ambiente, Q negativo. E qui vediamo uno schema con le frecce dove il calore dall'ambiente al sistema è positivo, Q maggiore di zero, e negativo quando invece dal sistema va verso l'ambiente. Per convenzione invece si definisce il lavoro positivo quando agisce dal sistema verso l'ambiente, quindi ad esempio un pistone che si espande, quindi compie un lavoro verso l'esterno, e negativo al contrario, quando invece è l'ambiente che impone un lavoro sul sistema, viene ad esempio compresso un pistone e il gas che sta al suo interno subisce un lavoro dall'ambiente esterno verso l'interno. Quindi questo schema, che abbiamo già visto nella lezione di termodinamica del corso di fisica, riassume benissimo questi concetti. Vediamo alcune definizioni. Lavoro e calore sono manifestazioni dell'energia. Il calore di reazione Q è la quantità di energia ceduta o assorbita durante una trasformazione chimica. Nel sistema internazionale si misura in joule. Una caloria equivale a 4,186 joule. Per definizione, una caloria è la quantità di calore capace di aumentare di un grado centigrado, o un grado kelvin, un grammo di acqua. Una chilo caloria, invece, è lo stesso valore moltiplicato per mille, perché è chilo, quindi è 4,186 joule. Per definizione, quindi, una chilo caloria, o cal, con la C grande, è la quantità di calore capace di aumentare di un grado centigrado, o kelvin, un chilogrammo di acqua, quindi mille grammi di acqua. Il calore specifico, CS, è la quantità di calore necessaria per far aumentare di un grado centigrado o un grado kelvin la temperatura di un chilogrammo di una data sostanza. Quindi ricordatevi sempre che ogni sostanza ha il suo calore specifico. C'è la caloria che utilizza l'acqua come unità di misura, e quindi tutte le altre calorie specifici di altre sostanze sono unità di misura riferite all'acqua. Quindi quante volte più o minore dell'acqua è il calore specifico di una data sostanza. Ma lo vedremo adesso in un esercizio. Proviamo a fare questo esercizio. Calcolare la quantità di calore necessario per riscaldare 70 grammi di alluminio da 10 gradi centigradi a 90 gradi centigradi, con un CS calore specifico di 0,908 kJ fratto chilogrammi per grado centigrado. Che cosa vuol dire questo 0,90? Che il calore specifico dell'alluminio è praticamente quasi il 91% di quello dell'acqua. Quindi l'alluminio ha bisogno di meno calore per riscaldarsi di un grado rispetto all'acqua. Però andiamo avanti e facciamo questo esercizio. Si può calcolare il trasferimento con la seguente legge, Q uguale a M per CS fratto differenza di temperatura tra finale e iniziale, quindi la variazione di temperatura tra 10 e 90 gradi. E poi possiamo applicare i dati nella formula. Però ricordiamoci che la formula vuole i dati in chilogrammi e l'esercizio ce l'ha dato in grammi, perché qui nel calore specifico l'unità di misura è in chilogrammi, quindi dobbiamo mettere chilogrammi a posto della massa. E andiamo a convertire 70 grammi in chilogrammi, troviamo che sono 0,070 chilogrammi. Sostituiamo i dati. Q equivale a 0,070 per 0,908 per la differenza di temperatura prima e dopo il riscaldamento, quindi ovviamente tra 10 e 90 gradi il delta T è di 80 gradi. Calcolando questi dati otteniamo una quantità di calore pari a 5,08 kJ. Questo è il calore scambiato durante questo riscaldamento. Questo è solamente un estratto della mia lezione completa sulle reazioni chimiche. Nella reazione completa parleremo del bilanciamento tra i reagenti e i prodotti di una reazione chimica, parleremo del concetto di entropia che possiamo avere all'interno dei sistemi e che si manifesta durante le trasformazioni fisiche e chimiche, parleremo del lavoro svolto di una reazione chimica e di come si calcola e vedremo la differenza che c'è tra la reazione chimica esotermica ed endotermica. Potete trovare tutto questo e tanto altro nella lezione completa di chimica, la numero 7, sulle reazioni chimiche, che potete trovare sul mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook, Prof. Antonio Loiacono. Grazie.